Tante partite di cartello nella quarta giornata di ritorno di Serie D. Nel Gironi G, dopo gli stop forzati di domenica scorsa, tornano in campo l'Aquila e Avezzano. Per la squadra di Massimo Morgia in arrivo una settimana decisiva. Domani la trasferta di Ostiamare, poi due gare casalinghe, il recupero Colo Rieti e quindi l'Arzachena. Tre scontri diretti che saranno un crocevia per la stagione. Se l'Aquila vorrà vincere, il campionato non potrà permettersi stecche come quella di Monterosi. Qualche dubbio di formazione per Morgia, che in avanti farà comunque leva su Noman e Peluso. Laziali a pari merito in classifica e molto forti tra le Muramiche. Gara durissima. L'Avezzano riceverà al De Marsi l'Albalonga, dopo aver incamerato senza giocare i tre punti col Foligno. Anche per i marsigani settimana intensa, che passerà per il recupero del primo febbraio col Sansepolcro e poi la trasferta sarda a Muravera. Con le due partite casalinghe, la squadra di Tortola può cercare di lanciarsi verso il girone di ritorno, chiesto dal presidente Paris. Squadra di Albano Laziale in Calando dopo un bel inizio di campionato. Batterla vuol dire avvicinare il treno delle migliori. Nel girone F, Pineto galvanizzato dal blitz morisano di mercoledì scorso. Tre punti fondamentali per inseguire la salvezza, anche se il tecnico Amaolo predica continuità, che andrà perseguita domani in un altro scontro diretto. Al Mariani Pavone arriva il Romagna Centro, obiettivo vendicare la sconfitta dell'andata. Il big match però ci sarà all'Aragona di Vasto, dove la squadra di Gianluca Colavitto avrà l'arduo compito di fermare la lanciatissima fermana capolista del girone con un più sei sulla seconda e reduce da nove vittorie nelle ultime dieci partite. Questa volta la vastese sarà chiamata ad una prova di forza davanti al pubblico amico ed è l'opportunità di rimettersi in corsa per la vittoria del campionato. In attacco dovrebbe toccare di nuovo Felici al posto di Galizia, nel completare il tridente con Fiore e Prisco, ancora panchina per Romano nel reparto mediano. Il San Nicolo cercherà di rialzarsi nel match del Bonolis con il Monticelli. La lunga inattività ha inciso nel tonfo di fermo di mercoledì scorso. Il tecnico Epifani e il DS Micciola hanno strillato la squadra ed ora attendono una risposta sul campo. Sarà subito a disposizione l'ultimo arrivo, l'esterno d'attacco classe 97 Gianluca Iorio, prodotto delle giovanili del Pescara. Sei presenze in Lega Pro con la Lupa Roma nella prima parte di stagione.